Algoritmo e politica, un fatto che riguarda la democrazia, un fatto che si gioca molto spesso sui social network, laddove sappiamo esserci una circolazione di informazioni molto veloce e anche virale, quindi in realtà informazioni che sono capaci di espandersi in maniera velocissima e di creare un sentiment, una percezione, un sentimento che possa essere addirittura espressione della parte più viscerale di quelle che sono le nostre reazioni. Personaggi politici importanti, sia all'estero che in Italia, da Trump a Salvini hanno fatto uso e fanno uso di questa macchina, ci sono casi internazionali come quello di Cambridge Analytica che ha sostanzialmente, con un accordo con Facebook, sottratto migliaia e migliaia di informazioni di quelli che sono i nostri gusti al momento di interagire sui social media proprio per fare, elaborare delle strategie che abbiano alla base l'effetto di poter farci cambiare opinione o di dare informazioni utili per manipolare in qualche maniera il voto. Come funziona? Su Facebook sappiamo che c'è una bolla, una bolla gestita da un algoritmo, quindi i miei amici ed io parliamo sostanzialmente in un cerchio piuttosto chiuso, e in questa bolla è possibile che ci siano dei militanti che abbiano raddoppiato, moltiplicato le loro identità muovendo così anche il discorso interno della bolla e rendendo attraverso la quantità di informazioni che vengono immesse vere alcune informazioni che invece non lo sono, sono quelle che vengono chiamate le fake news. Cosa è successo? È sparita la disintermediazione e cioè il fatto che fra la fonte che dirama un'informazione e il pubblico non ci sia più sostanzialmente quello che era il ruolo del giornalista, del comunicatore che verificava la notizia e che poi la restituiva anche con un'interpretazione, un'opinione. In questo momento siamo invece di fronte a questo contatto diretto fra la fonte e il pubblico con delle capacità manipolatorie molto alte. Pensate alla famosa bestia di Salvini, anche un po' sopravvalutata, ma che è capace come quello che è, cioè un listening tool, uno strumento per ascoltare una grande quantità di commenti sui social network, di intercettare qual è il sentimento popolare più di pancia, di calcare su questi temi, oppure, grazie alla moltiplicazione appunto, dicevamo, delle identità di militanti, di scatenare delle campagne vere e proprio, anche molto violente, contro questo o quel personaggio politico. Ecco allora che è importante ragionare sull'algoritmo, che di per sé non è né buono né cattivo, e la politica, e lo faremo al Festival di Diritti Umani edizione 2021, la sesta edizione, dal 21 al 23 aprile del 2021. Grazie a tutti.